Papo, viviamo nel terrore ormai. I miei non mi permetterebbero mai di andare al lago dopo la morte di Marta. Quindi questo è il momento giusto. Devo sapere, il dubbio mi sta consumando. Una lente e un... Un cavalletto è necessario per fare foto con un lungo tempo di esposizione. Un cavalletto è necessario per fare foto con un lungo tempo. Un cavalletto è necessario per fare foto con un lungo tempo. Un cavalletto è necessario per fare foto con un lungo tempo. Cos'è questo? Uno scherzo? forse qualcuno un bivio una via verso la vita e una verso il un bivio un bivio se passi un ponte che ha poca dignità girati subito la pietra ne ha va bene e 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 pregava nascosta nel bosco e 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